bella a tutti ragazzi e ben ritrovati con youtubers live questo simpaticissimo gioco che ci piace tanto con i tasti a vsd si può muovere non sapevo questa cosa e non me la ricordavo più che altro dove eravamo rimasti che non me ricordo mai niente dormi intanto così almeno recuperiamo un po studia visto che ci sta l'esame e dopo ci sta l'esame ma andiamo a fare l'esame no vero dobbiamo trasferirci di casa perché non è andata ah perché ancora sta caricando ci siamo arrivati ma stiamo scherzando manco i soldi mi ha dato che merda ma come eravamo rimasti ragazzi leggermente il mio gioco che io abbia mai giocato è molto vabbè molto brutto che ha editato questo video questo video esiste davvero mio dio è brutto mercedes parliamone parliamone di come vuoi morire la tua casa vabbè ragazzi ci trasferiamo visto che non accumuliamo più esperienza è inutile stare in questa casa e quindi dovendo proseguire nel gioco ci trasferiamo in un'altra casa in questa stanza ho scoperto di poter davvero vivere facendolo youtuber quindi mi sono dedicato interamente a questo e ho raggiunto i 50.000 iscritti ancora non è vero in più questo appartamento avevo il tempo per studiare i corsi e migliorare le mie abilità di youtuber ma avevo anche altri doveri sono già nel mio nuovo appartamento ora che non vivo più con i miei non corro più il rischio di vedere sparire il mio computer mai visto sparire e sono libero di fare quello che voglio ma ho nuovi doveri d'ora in poi posso mangiare tutto quello che voglio apri il frigo e mangio un sandwich non vedevo non vedevo se non vedo non premo mangiamo un bel sandwich posso comprare il cibo cliccando sul mio frigorifero compra il cibo dai io compro il cibo vabbè comunque questo visuale non un momento scegliamo questi qua così non rompi un altro peggio di questo appartamento è che posso aumentare le mie abilità grazie ai corsi dalla libreria posso scegliere il corso che voglio posso fermarmi e riprendere il corso quando voglio cliccando ancora sulla libreria canali intanto qua prendiamo questi punti esperienza ottieni 50k di iscritti bene fai il nuovo video facciamo questo qui ok e poi dobbiamo iniziare ad aggiornare il computer saluto figo dai menu principale commento sarcastico tutorial del gioco eh di solito uno ci si incassa a fare il tutorial schermata di caricamento ci è andata bene la faccina che ride ci la mettiamo direttamente superato una sfida difficile colpo di scena saluta con la mano no no questo qui che ci dà due cose ho sbagliato non me ne racconto facculo questo no ci va dopo non ci va mai ah la stessa problema di prima va bene e poi questo andiamo processiamo il video io sta musichetta la adoro chi sei che vuoi dica perché dovrei darle un regalo flerta ciao ti piace la tua compagnia telefonica attuale sono sicura di no ti offrono se sei più veloci devi solo fare rifiuta eh perché mi pigli per festa che dovevo fare ma lavoriamo lavoriamo 8 ore 48 dollari andiamo tagliate punta tagliate tacco mo ritorna a me ci attacco mo a me quelle con il copyright non mi piacciono proprio quindi saluti semplici dormi papà ma quanto è figo il nostro personaggio andiamo a magna magna che cosa hai ogni volta questa qui non fa si sa perché fa questi versi ci sono impegni no e allora va ten facciamo studiare qualcosa questo qui dai 50 dollari ammazza che ciao mi serve qualcosa per il mio compito dammi un secondo ma fattene ma sei una scroccona ma tu ma chi sei Marli Marli c'è Ruth Lucazzi no andiamo qua a procedere andiamo un po' perché sto così zoomata ogni volta ragazzi non lo so ok già ho fatto questo corso di base un po' che roba però oh oh ciao sbloccata il frega a sto punto vediamo questa qua video rubato si andiamo a rubare i video e poi fai un nuovo video perché mai ci abbiamo bisogno di tanti soldini fai questo qui gameplay andiamo ad editare poi compriamo qualche pezzo del computer dai intanto siamo a 22.000 iscritti ragazzi state aumentando velocemente oh sbagliato perché ho messo veloce caricamento ma io voglio una faccina ingazzata scena di introduzione la faccina che ride ci mettiamo questa è sbloccata un archivment archivment schermata interattiva prima sto imparando a giocare questo commento professionale e poi i gradi di finale già il computer se n'è andato quel paese riparalo che cazzo ho fatto raga perché io pensavo che ce la ripara ma baffanada mannaggia pensavo che ce la ripara e vabbè oh ci possiamo fare tanto ma dormi sì dormi dai abbiamo superato i 20.000 iscritti ragazzi ok la loquacità l'abbiamo aumentata l'abbiamo saliti di livello mangiamo qualcosa intanto mettiamo pure la velocità così mangia non tocca aggiorna aggiorna grande ce l'abbiamo fatta il computer sta lavorando c'hai ragione amica fai adesso aggiorna allora compriamo il nuovo case e il nuovo schermo e basta perché poi ci dobbiamo pagare anche l'affitto ancora ci vuole in caso poi li compriamo più avanti e visto che ci sei vattene a lavorare 60 dollari dai buongiorno se non ti dispiace vorrei giocare un po' ma dico non ce l'hai un computer tuo ok l'affitto al mese qui è 80 dollari quindi bene e adesso dormi no aspetta possiamo andare a lavorare? no per 20 dollari mi secco dormi mangio e gli facciamo comprare un nuovo videogame in caso andiamo un attimino questo ultimo video ci ha fatto guadagnare 16 dollari e 7 in realtà sono un po' pochini andiamo magari comprando un nuovo gioco se riusciamo l'8 febbraio no troppo vecchio ultima uscita 15 marzo boh facciamoci compriamo questi due e facciamo nuovo video avevano le cose così brutte 12 febbraio l'8 febbraio ah ma devono ancora arrivare che so stupida io dai vai qua anzi stai qua perché poi arrivano i cosi eccoli apri ok apri anche questo e poi fai nuovo video questo fa il prima perché dovrebbe essere nuovo no ma perché hai comprato un nuovo gioco intro musicale bella ci sta bello felice sorridente faccina questa qui urlo celebrativo perché ho superato una sfida difficile e poi facciamo questa qui che è incazzata da più cose tempo prima di iniziare un gioco il gioco si blocca e le pestemmiate che portano qui ragazzi ce ne dai colpo di scena no saluta con la mano e colpo di scena ma fatemi capire un po' come come ragionate c'è un senso logico per le frasi che ci mettete mettiamolo qui va mettiamo anche questo qui ok bella non abbiamo neanche preso una cosa di quella perfetto ok dovrebbe dovrebbe andare pubblico annuncia una nuova console arriverà presto che palle ragazzi costano un sacco le console prendiamo questa poi va a dormire tanto comunque il gioco deve caricare ci sta un sacco di tempo dormi mangia mot dog e poi te ne vai a lavorare boh facciamo questo 50 dollari voglio big money voglio big money big money for me capirai 50 dollari mica sono big money nuovo video tanto ancora abbiamo 19 punti dovrebbero bastare facciamo il gameplay di questo dai aspetta ma l'ho aggiornato farà in automatico ok ciao andiamo abbiamo le carte nuove che comunque non abbiamo ancora giunto al mazzo anzi arrivo pelo pelo le metto no abbiamo tutti che sorridono mettiamo questo e questo dai così un pochettino cambiamo di questi ne abbiamo tre incavolati due così e uno che ride e allora levo un incavolato metto questo ok carte corpo per il corpo del video mettiamo allora c'ho due incavolate tre sorridenti sono avanti vediamo questa aspettate un attimino mettiamo questa questa c'è il si non si può mettere cioè si può mettere ma io non le uso necessariamente non ne vale la pena ok e le carte finali possiamo direttamente aggiungere mettiamo questa e questa giusto se non ci dovessero bastare i punti nella parte finale del video mettiamo quelle caricamento vabbè ingazzato ci mettiamo quello subito poi ci sta un pochino la badobase distrutta mentre attaccava il nemico ci sta l'incazzatura raga visto che abbiamo pochi punti facciamo questo pochi punti mettiamo questo e pochi punti ci siamo arrivati per lo bello ma l'abbiamo fatto tutto così adesso dovrebbe venire un bel montaggio decente suppongo ok alto basso e sto cazzo scusate però a sto punto non lo so mi conviene metterlo non aumenta niente quindi se no che possiamo fare di basso ne abbiamo solo uno così ok adesso aumentiamo questo e ci mettiamo ok l'aggiunta del colore si del colore pubblica comunque se sbaglio qualcosa ragazzi fatemelo sapere ciao un modello che ci ha detto che c'è una presentazione di un nuovo telefono è stata va bene non ci sono andata compro il biglietto ci andiamo ok ci sarò così direttamente ci compare vestiti e bla 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 musica con copyright dormiamo mangiamo e concludiamo qui la puntata per oggi va bene ragazzi per questa puntata direi che è tutto abbiamo già migliorato un po' il computer iniziamo a fare i video un po' più decenti e le visualizzazioni stanno aumentando quindi man mano adesso dovremmo iniziare ad aumentare anche il nostro budget piano piano ci dovremmo riuscire sarà difficile adesso perché si metteranno tantissimi impegni tantissime persone quindi sarà un po' più complicato ma va bene così ci sta comunque il gioco mi piace quindi sono contenta di farlo e ovviamente se avete dei suggerimenti se sbaglio qualcosa lasciatemi dei commenti e fatemelo sapere se il video vi è piaciuto scusate se la serie e il video vi sono piaciuti lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati quando carico un video detto questo finché la mia voce dura vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video ciao belli ciao 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 ciao